La Regione deve versare 370.000 euro a titolo di risarcimento del danno al CAT PMI Confcommercio, ma non ancora ha provveduto a liquidare la somma, nonostante il pronunciamento del TAR e del Consiglio di Stato. Confcommercio aveva partecipato nel 2011 ad una gara indetta dalla Regione per l'affidamento dei servizi legati alla formazione professionale per un importo a base d'asta di 11 milioni di euro, gara che era stata revocata dalla Regione stessa che aveva poi affidato il servizio all'Agenzia Molise Lavoro, una decisione che si basava sul presupposto risultato poi errato che l'Agenzia fosse un organismo in house. Il CAT, difeso dell'Avvocato Michele Coromano, aveva impugnato la delibera di revoca dinanzi al TAR ottenendo la sentenza favorevole. In sostanza i giudici avevano annullato il provvedimento di revoca disponendo la prosecuzione della gara. Ma la Regione si è opposta, presentando appello dinanzi al Consiglio di Stato che, dal canto suo, ha rigettato l'appello accogliendo la richiesta della Confcommercio di rinunciare alla prosecuzione della gara in cambio del risarcimento del danno. Una vicenda che, malgrado tutti i gradi di giudizio, resta aperta. La Regione ha denunciato il presidente di Confcommercio Paolo Spina e in adempiente, costringendoci a rivolgerci ancora una volta al Consiglio di Stato per la nomina di un commissario ad acta per il pagamento della somma che ci spetta, un'inadempienza del Governo regionale che ancora una volta ricade sulle spalle dei contribuenti molisani e delle imprese già in difficoltà.